Primo tempo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio agli highlights della partita e vi rinnovo l'invito a seguire le vostre squadre preferite, a seguire il campionato di Serie C qui sulla piattaforma 11sports.it, qui su Serie C2. Da Alessandro Chiappetta è tutto, un grazie per la vostra attenzione e a risentirci per le prossime occasioni. Grazie. Grazie. Grazie.